Passato il mese di agosto con una serie di sagre, concerti e spettacoli legati anche alle due feste religiose dell'Assunta e San Felice, l'estate Nicosiana 2022 procede anche nel mese di settembre. Si parte con l'evento di punta l'1 settembre alle 21 in Piazza Garibaldi con il concerto dei The Colors. Il 3 settembre si svolgerà Santa Maria di Gesù a cura della ConfCommercio nel luogo della Movida Nicosiana la notte prima della sagra con musica live e DJ set. Il 4 settembre si svolgerà l'organizzata della ConfCommercio a partire dalle 11.30 la sarra del Nocattolo tra i prodotti tipici. L'evento si svolgerà tra Largo del Mercato, Piazzetta San Calogero, Via Freli Testa e Piazza Marconi. Sempre il 4 settembre nel pomeriggio del 17 in Piazza Marconi verrà inaugurata la mostra fotografica curata dall'Associazione Vicole Storici che ricorda il passaggio del Giro Sicilia da Nicosia, una serie di scatti realizzati da fotografi amatoriali che verranno premiati dopo l'inaugurazione. Nella serata del 4 settembre alle 20.30 in Piazza Garibali svolgerà la rassegna Musica che Passione con l'esibizione degli allievi della Scuola di Musica Santa Cecilia di Nicosia diretta dal maestro Giuseppe D'Amburello. Presentano il duo composto dalle artiste brillanti Assunta Niceto e Ina Picone. Il 10 settembre a partire dalle ore 15 torna il ritorno dei Vicole Storici giunto alla quinta edizione che si svolgerà principalmente nella zona di Santa Maria di Gesù, l'evento organizzato dall'Associazione Vicole Storici di Nicosia. Nella serata dell'11 settembre si svolgerà nel quartiere di San Michele la settima edizione della Sacra dei Maccheroni in Amaida a cura dell'Associazione Comitato per Santa Maria Maggiore. Il 15 e 16 settembre si trarrà l'evento Nicosia e una piazza per Luigi, organizzato dalla DL Orga a cura di Salvatore Leonardo, ospite del giornalista ed opinionista Idris e del campione del mondo di Spagna 82 Antonio Cabrini. L'evento ricorderà la strage dello stadio Aiselle dove persero la vita 39 persone, tra cui il nicosiano Luigi Pidone, a cui verrà intitolato una piazza del comune di Nicosia. In occasione della festa della Manona dell'Aiuto si terranno una serie di eventi organizzati dalla confraterrina Monte Calvario San Cataldo a partire dal 14 settembre con il concerto in piazza San Cataldo dei Retrosca. Con degustazione dei maccheroni, il 16 settembre gli sbandilatori del gruppo Civitas Enico si accoglieranno i madonnari e il 17 settembre si terrà una serata di liscio. L'evento di punta di questa settimana va dal 16 al 18 settembre con lo svolgimento del quinto concorso internazionale madonnari di Sicilia a cura dell'omonima associazione, evento legato alla festa della Madonna dell'Aiuto.